Musica Musica Bentornati amici con i playoff Bentornati Non siamo morti ma siamo vivi Quindi ragazzi ci siamo presi due settimane di vacanzetta Vacanzetta dicono a Firenze Vacanze Quindi ragazzi i playoff non sono morti Siamo ritornati per dirvi Abbiamo un serbo tante sorprese Un serbo in africano vabbè Non fa niente Sì Quindi abbiamo una sorpresa per voi Per voi Quindi i playoff hanno anche studiato cosa fare a settembre Quindi ragazzi per voi abbiamo nuove Nuove? Nuove? Novità Questa cosa La faremo da settembre in poco Una nuova Infatti La produzione Infatti La lista sta di là La lista sta di là Vabbè chissà Vabbè vado a prendere due secondi Vado a prendere due secondi Per chi Questa è arrivato Eccolo Che cosa ogni volta Guardate che vi abbiamo scritto Guardate Non vogliamo elencarle tutte perché deve essere una sorpresa sorpresa allora cominciamo ci saranno i playoff ci sono sempre questo è vero ci saranno allora poi dico qualcosa io o qualcosa lo facciamo allora provano a ridere provano a spaventarti abbiamo deciso di farlo una volta al mese per non farle diventate una volta al mese per fare le novità magari se voi ci date una mano potete anche collaborare con noi ci mandate i link in descrizione nei social non so anche nel video stesso se volete va bene a voi vi ringrazieremo anche durante i video e anche vi scriveremo nei commenti ci mandate i link dei video provano a spaventarti provate a non ridere quello che volete poi cosa dovremmo fare a settembre faremo game di fifa 18 18 carriera carriera allenatore con il con il foggia per forza ragazzi perché è salita in serie b finalmente e questo quante volte sarà fatto questa cosa questa cosa una volta alla settimana va bene quindi ragazzi mi raccomando sapete che ci regoleremo con i giorni perché poi magari tra il mercoledì e giovedì dipende speriamo di farvi di lasciarvi dei giorni stabiliti in modo che voi sappiate quando faremo la carriera e quando faremo questo video cioè l'orario eccetera eccetera ci mettiamo d'accordo ragazzi più preciso poi invece poi vi diremo non vi diremo tutto perché vogliamo farvi delle sorprese poi essendo che da settembre inizierà grande fratello vippes vippa sa ci saranno delle sorpresine e ti fermo qui e anche perché abbiamo visto su youtube che non c'è molto non c'è niente di queste cose ma lasciamo perdere vi lasciamo nel vostro dubbio poi invece c'è un'altra novità che novità quale fortunato è me ma se ci piace mangiucchiare bene sì siamo però siamo magri molto magri c'è venuta questa idea di fare i play off versus food food no food food mangiava e mangiare a mangiare al nostro paese dice amo mangiare e leggi ammo mangiare vabbè dai diciamo a mangiare avimmo a mangiare vabbè 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 comunque faremo questa cosa una volta al mese sempre perché mangiare tante schifezze ogni giorno vuol dire andare direttamente al cimitero non me lo hago perché trovare una tomba della sua dimensione è un po' difficile scherza ragazzi scherzi scherza sempre ragazzi meglio ridere ragazzi che stare a piangere perché già c'è tanta amarezza in questo mondo di me lasciamo stare quindi ragazzi voi ci proporrete qualche tipo di cibo strano magari di fare ovvio non schifezze ma forse porteremo qualcosa anche dal giappone dall'africa orientale dall'africa occidentale anche perché sennò possono arrivare quindi potremmo fare chilometro zero parecchie cose ragazzi fare delle scommesse no scommesse di soldi perché no 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 però qualcosa qualcosa divertente che a voi potrebbe vedere ragazzi peperoncina a manetta poi call center call center non dico altro non dico altro call center horror lasciamo stare vabbè tante cose ragazzi abbiamo molte cose in servo sicuramente vi piacerà ragazzi perché sono cose che andranno anche in tendenza poveri ma anche una sorpresona che non vedremo in questo momento va bene tanto lo vedrete ci saranno anche degli ospiti eh sì questa è poi la sorpresa quindi non la terreno ragazzi eccezione proprio ultima cosa ragazzi è anzi e ringraziamo gli ultimi iscritti che si sono appena aggruppati al nostro canale perché in settimana stiamo facendo video poi dovremmo fare anche un video a parte una bella sorpresa sarà per voi perché ora facciamo un anno dopo ferragosto il 17 agosto faremo un anno di play off i play off e abbiamo già in servo per voi un bel videazzo in servo ma perché i serbi non sono serbi sono in servo quindi ragazzi mi raccomando allora spolliciate per questo bel video spolliciate mi raccomando come prima iscrivetevi scommentate cliccate la campanella per accedere anzi per farvi arrivare le notifiche dei nostri video sempre se arrivano e scondividete questo video mi raccomando commentate ciao ragazzi alla prossima play off fortunato e capriello alla prossima ciao ciao